Buongiorno, io sono Albi con questo piccolo video, volevo informarvi di una cosa che succederà questo pomeriggio, oggi venerdì, aspettate ne abbiamo 5, venerdì 5, oggi alle 5, 5 e un quarto, comunque già potete iniziare a sintonizzarvi alle 5, sul canale Twitch di Gamers Legacy, Gamers Legacy è un sito italiano che organizza tornei e ladder di Starcraft, League of Legends e Dota, Beh, ci sarà una partita di Dota 2, appunto, di uno di questi ladder, di uno di questi tornei, che tra l'altro hanno anche dei buoni montepremi, quindi se siete interessati, se non lo sapevate, date un'occhiata al sito, metterò il link in descrizione, e dicevo, oggi alle 5 ci sarà una partita e verrà castata da me e Shinigami, qua sotto ho messo una clip di data abbastanza simpatica, guardate questo corriere, no, 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 il Chaos Light lo vuole questo corriere, ma, ok, ok, torna, 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 ecco, torna da papà, Comunque, come stavo dicendo, appunto, alle 5 sul canale Twitch di Gamers Legacy, appunto, vi metterò comunque il link qua in descrizione, ci sarà una partita castata da me e Shinigami, quindi se volete vederla, vi interessa Dota, volete imparare qualcosa in più di Dota, beh, questa è l'occasione. Ne approfitto anche inoltre per dire che ogni tanto sul mio canale di Twitch, quando gioco a Dota, ogni tanto streamo senza dirlo a nessuno, per ora sto ancora facendo delle prove di qualità per vedere se riesco a streamare ad una qualità buona, senza scattare, senza laggare e quant'altro, quindi in caso lascio anche il link lì sotto se volete darci un'occhiata ogni tanto. Beh, direi che è tutto, ci vediamo oggi alle 5, ciao ciao ciao!